Per l'Italia è stata una giornata importante perché ci siamo assicurati la nostra presenza nel Consiglio. Questo è importante perché permetterà all'Italia di essere sempre più partecipe dello sviluppo e del futuro del turismo internazionale, dove ci sono delle parole chiavi molto importanti, sostenibilità, inclusione e formazione. Quindi da oggi ancora più protagonista l'Italia in Europa internazionalmente per sviluppare politiche industriali per il turismo.